Da ieri l'assassino di Melania Rea ha ufficialmente un nome e un cognome. Si tratta di Salvatore Parolisi, riconosciuto colpevole già dal tribunale di Teramo che lo aveva condannato all'ergastolo e in seguito dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila che lo aveva condannato a 30 anni di carcere. Ieri la Corte di Cassazione ha si riconosciuto in maniera definitiva Parolisi come l'assassino della moglie ma ha anche stabilito che dovrà essere rideterminata la pena. Non più 30 anni dunque ma dovrà essere applicato uno sconto perché non è stata ravvisata dalla Suprema Corte l'aggravante della crudeltà. Molto probabilmente Parolisi se la caverà con una pena che andrà dai 20 ai 25 anni di carcere e sarà la Corte d'Assise d'Appello di Perugia a quantificare gli anni che l'ex militare dovrà scontare dietro le sbarre. Le sentenze vanno rispettate soprattutto quando hanno l'imprimatur della definitività che solo la Cassazione può dare. Ma qualche riflessione si può fare anzi verrebbe da dire si deve fare. Se si è stabilito che Parolisi è l'omicida di Melania Rea allora meriterebbe l'ergastolo così come stabilito da Teramo all'inizio. Non ci possono essere attenuanti o sconti di pena in questo caso. Un uomo per cause che ancora non sono state ben messe a fuoco ha ucciso la moglie davanti a una bambina di un anno e mezzo che era in auto sveglia oppisolata che fosse non è dato saperlo e con 35 coltellate che possono far pensare anche a un delitto d'impeto ma commesso con una ferocia fuori dal comune. Ma se anche un solo dubbio ci fosse sulla vicenda e con Parolisi che continua a professarsi innocente ci vorrebbe forse qualcosa d'altro alla luce del fatto che le indagini sono andate come sono andate che le prove sono quelle che sono e che addirittura un telefonista che ha una voce e un accento particolari e dunque facilmente identificabile non è stato mai trovato. E' uno dei misteri e delle grandi lacune di questo processo. Verrebbe da pensare ma se non sono riusciti a trovare uno che parla al telefono siamo sicuri che identificare un assassino sia più semplice? Polizia buonasera. Buonasera. Telefono per denunciare una cosa. Ascolti. Prego dica da dove sta chiamando lei? Teramo. Teramo dove? Teramo stazione. Ascolti. Arripe. Chiosco della Pineta. Arripe dove? Ripe di Civitella? Sì. Chiosco della Pineta. Non so come te venga adesso ma c'è un corpo per terra. C'è un corpo per terra? Sì. Dentro al chiosco? No, fuori. Io stavo facendo una camminata. Ciao. Pronto?